Grazie, difficile andare in onda dopo Laura, di prima mattina, come immagine dico, un po' io, un po' Salvini e mi dispiace anche di aver costretto Matteo Salvini a un po' un tour de force, però Matteo Salvini buongiorno io ho avuto ieri una cosa che mi pre... Buongiorno, devo buttarti giù direttore però, non siamo ancora da buttare via, dai sicuramente meglio Laura No vabbè, non siamo da buttare via, però io ho la mia età e devo dire che ieri mi è presa una fissazione, adesso io nei mesi scorsi ho seguito tutto, è tutta la battaglia dei migranti, è il governo, è agosto, è settembre è il nuovo governo e non sappiamo quali saranno le misure, che glielo chiedo a fare, pure io ho i miei dubbi dopo ne parleremo, ma ieri ho avuto una fissazione, io sono mesi che ho un tarlo nel cervello io sono di Roma, nato e sto parlando da Milano, lei è di Milano e sta parlando da Roma adesso Roma l'ha attraversata, però a un certo punto è esploso in questi giorni ed è l'unico politico che l'ha fatta con questa forza, l'ho chiamata perché voglio parlare di Roma io credo che non sia più tollerabile per Roma, per i Romani, a nome dei Romani che secondo me protestano poco e per l'Italia, come ha spiegato anche il Presidente di Asso Lombarda, è intollerabile la situazione di Roma in particolare credo che la situazione dei rifiuti a Roma sia una cosa che danneggia l'Italia anche dal punto di vista della sua vocazione turistica, lei l'ha attraversata a Roma, sente gli odori, sente tutto quello che sento anche io quando ci vado ogni tanto, allora vorrei capire perché tra l'altro ieri è uscita una notizia, l'avrà lasciata di stucco a lei come a me, che addirittura il Sindaco di Roma deve andare al Consiglio dei Ministri, non so, a portare forse la sua grande intelligenza visto che ha governato in quella maniera bene Roma, allora io credo che ci sia un fatto politico dietro, però prima do la parola a lei perché voglio sentire che cosa pensa che si debba fare urgentemente a Roma. Pulirla, amarla, conoscerla, come in tutte le altre città d'Italia ed Europa, lo dico per i non romani, qua c'è una città sporca, trascurata, caotica, trafficata, problemi di mezzi pubblici, problemi di smaltimento e rifiuti, problemi di viabilità, problemi di metropolitane ferme, problemi di case popolari a Ostia piuttosto che a Torbella Monaca con pezzi di calcinacci che cadono, ma stiamo ai rifiuti, ovunque nel mondo i rifiuti sono un valore, sono una ricchezza direttore, tu sei a Milano, in Regione Lombardia ci sono 13 valorizzatori dei rifiuti che a inquinamento zero producono energia per le case, calore, valore per le aziende, a Roma no, a Roma i rifiuti sono un affare per la criminalità e sono un costo per i cittadini, oggi il sindaco Raggi è in Danimarca, non in vacanza ma potrebbe studiare in Danimarca perché voi se non ricordo male faceste vedere le immagini di un termo valorizzatore nel cuore di Copenaghen, fatto peraltro da un'azienda italiana che ci ha fatto una pista da sci sopra, dove vanno a sciare i bambini, quindi o i danesi sono cretini oppure con le ultime tecnologie c'è inquinamento zero e sono così sicuri questi impianti che producono ricchezza e i bimbi ci vanno a giocare sopra, a Roma no, a Roma per i no dei 5 stelle e per l'incapacità della regione con Zingaretti è perché chi si somiglia si piglia, Raggi e Zingaretti adesso sono alleati a livello nazionale, il duo Shagura, ahimè per i romani è alleato anche qua, i rifiuti non si valorizzano e stanno studiando di mandarli in Bulgaria, in Svezia e in Danimarca, chi paga? I romani e gli italiani, non è possibile. La cosa impressionante è che la Raggi troverà a Copenaghen due cose, il termo valorizzatore di cui abbiamo parlato a lungo proprio come dicevi te, quel termo valorizzatore che noi dovremo pagare per portarci i nostri rifiuti non farne un altro uguale qui, no, pagare i danesi e poi troverà la metropolitana di Copenaghen che è danese, che è fatta da un'azienda italiana, la metropolitana a Roma è quasi impraticabile per aggiungere benzina sul fuoco, sono cascate le scale mobili di tre stazioni, una è la principale di Roma perché è quella della Piazza della Repubblica, cioè della stazione. Vorrei mandare un servizio ancora sui rifiuti e poi continuiamo perché una cosa che hai detto è molto importante e la vorrei sviluppare. Vediamo questo servizio. La sfida è di quelle hardwe, dieci giorni per individuare nuovi siti di stoccaggio dei rifiuti per scongiurare il collasso. Roma a rischio di una nuova emergenza nonostante il piano di raccolta straordinario varato da Regione Lazio e Ministero dell'Ambiente lo scorso luglio e si scatena una nuova bagarre politica a colpi di accuse esmentite con la sindaca Virginia Raggi che ha rinfacciato di essere rimasta da sola nella gestione dell'emergenza. Io sono stata lasciata sola. A respingere queste accuse ci pensa il Ministro per l'Ambiente Sergio Costa. Ci sono le carte firmate da parte di tutti i soggetti della cabina di regia varata a luglio, il sesto cambio ai vertici dell'Amana, municipalizzata per l'Ambiente, una nuova crisi dei rifiuti alle porte, tutto in pochi giorni. A ricarare la dose contro la sindaca è arrivato Matteo Salvini. Sentire nel 2019 i medici e i presidi scolastici parlare di chiusura delle scuole perché la salute dei bimbi a rischio nel 2019 è follia. A pagare il prezzo più alto però sono sempre loro, i romani, tra strade e marciapiedi invasi dalla spazzatura. Intanto si moltiplicano gli allarmi di medici e presidi delle scuole affinché si ripulisca al più presto la città. L'immondizia in mezzo alla strada, il fatto che possono attirare animali eccetera può chiaramente creare delle situazioni anche di natura sanitaria molto spiacevoli. Il servizio è vecchio, non è cambiato nulla, è di qualche giorno fa, avete visto, il ministro Costa eccetera. Non è cambiato nulla, non una cosa. Io sostengo questo, guardando al futuro. Il no ai termovalorizzatori è la nuova battaglia, la nuova frontiera di quello che è stata la TAV. Opporsi a delle opere indispensabili, straordinarie, che danno un valore al territorio è una questione di resistenza culturale, ideologica, è una questione insopportabile. Sulla TAV sappiamo tutti com'è andata, addirittura c'è stata la mozione che ha portato poi successivamente alla caduta del governo. Però la TAV si deve fare, i termovalorizzatori si debbono fare. Vorrei solo dire una cosa e così poi ti cedo la parola. Chi sostiene il contrario dei termovalorizzatori, cioè le discariche, gli inceneritori, non solo fa gli interessi di alcuni boss di questi settori, che resistono a fare i termovalorizzatori, ma addirittura fa gli interessi della malavita organizzata, che va a prendere i rifiuti nelle città che hanno una surplus e li viene a smaltire anche al nord con degli incendi, li prendono dei capannoni, li riempiono di questa spazzatura che viene da Napoli o da Roma e dopo gli danno fuoco per far sparire le tracce, con un danno all'ambiente eccezionale. Allora vorrei su questo continuare la nostra chiacchierata. Tu hai ragione perché poi ad andarci di mezzo è la salute dei cittadini, non solo dei romani. Pensiamo ai campani, alla terra dei fuochi, ai rifiuti scaricati abusivamente per le strade della campagna, pensiamo all'emergenza in Sicilia. Quindi evidentemente chi dice no aiuta la criminalità e danneggia la salute dei cittadini. Oltretutto in questi giorni si è aperta un'inchiesta a Roma perché anche sulla raccolta differenziata pare che ci siano delle truffe, cioè i romani pagano il comune che paga aziende per far raccolta differenziata nei locali e questi non raccolgono nulla perché ci vanno quando i locali sono chiusi. Quindi peggio di così, adesso dopo tre anni e mezzo, non solo sui rifiuti, però sulla manutenzione delle strade, sulla gestione delle case popolari, sui mezzi pubblici e gli autobus che ogni tanto vanno a fuoco, sul blocco di tutti gli impianti sportivi. Ieri sono stato nei pressi dello Stadio Flaminio di Roma. Abbiamo le immagini. Molti appassionati di calcio e di legno se lo ricorderanno. Abbandonato da otto anni, c'è l'erba alta due metri. Ora io faccio un appello se ci sta guardando da Copenaghen o se qualcuno che lei paga per guardare TG Com24 ci sta guardando. Virginia, ci hai provato per un anno, ci hai provato per due anni, ci hai provato per tre anni, stai entrando nel quarto anno, fare il sindaco non è il tuo mestiere. Sarei bravissima a fare tante altre cose nella vita, però fatti da parte perché Roma e i romani meritano di meglio, non la calamità naturale che purtroppo politicamente ti sei dimostrata. Ecco, qui entriamo in un campo direttamente politico perché io ho l'impressione, è una mia impressione, che ci sia uno scambio in atto. Il Comune di Roma era sotto nel mirino dell'opposizione, PD, quando era il PD l'opposizione, ma anche all'interno della maggioranza di governo della Lega che ha sempre denunciato queste cose, pur essendo al governo ha sempre detto all'alleato, va bene il governo, ma Roma è un disastro. Bene, oggi secondo me c'è uno scambio politico in atto, le prossime elezioni in Umbria sono delicatissime per il Partito Democratico perché ha alle spalle, con la Catiuscia Marini che era il governatore, ha alle spalle uno scandalo enorme, no? Allora, si tratta di non perderle e facendole separati, 5 Stelle e PD probabilmente le perdevano. Allora hanno pensato di trovare un candidato unico, di fare un forte apparentamento, una forte alleanza per sconfiggere il centrodestra che è unito. Io credo che Roma sia diventata all'improvviso materia di scambio, ovvero sia fino a che facciamo l'Umbria, lasciate perdere la giunta di Roma, lasciate fare a Matteo Salvini l'opposizione da solo e non mobilitiamo il PD che con Giacchetti era sempre stato all'opposizione. La penso così, però voglio una spiegazione politica. Innanzitutto la ringrazio per ricordare che gli Umbri votano, centinaia di migliaia di Umbri, domenica 27 ottobre. Io lo ricordo ai non Umbri, gli Umbri votano prima perché hanno arrestato l'assessore alla sanità del PD, il segretario regionale del PD e indagato il governatore del PD su denuncia dei 5 Stelle. Cioè i 5 Stelle prima li denunciano e li fanno arrestare e poi ci si alleano per salvare la poltrona. Finirà che vanno a casa sia il PD che i 5 Stelle. Quindi dal 28 ottobre si capirà che l'alleanza PD e 5 Stelle non la vogliono non solo gli Umbri, perché in Umbria governa la sinistra da 50 anni, ma non la vogliono gli italiani. E speriamo che su Roma si liberi la discussione perché il problema non è politico. La Raggi potrebbe essere anche della Lega o di Forza Italia o del PD, ma se uno non è capace di fare il sindaco perché è un danno per la sua città e i suoi concittadini, deve prenderne atto. Io le leggo i nomi degli amministratori dei rifiuti che ha cambiato in tre anni. Ci facciamo una squadra di calcio. Solidoro, Giglio, Bagnacani, Pettinao, Masullo, Bagatti, Melara, Longoni, Ranieri, Zaghis, ma neanche il Milan. Per quanto riguarda gli assessori ne ha cambiati una ventina. Non puoi essere totalmente lontana dai problemi di Ostia, di Torbellamonaca, del Flaminio. Roma ha il record per pedoni uccisi perché ci sono le strisce pedonali sbiadite e quindi le macchine e le moto non vedono le strisce pedonali. Questo è un articolo di questa settimana del messaggero Cronaca di Roma. Segnali sbiaditi e alta velocità. Ucciso un pedone ogni sei giorni. Si sono moltiplicati gli incidenti stradali mortali. Ora è chiaro che non è tutta colpa del sindaco, perché anche chi c'era prima non ha fatto quello che doveva. Il messaggero, che è un giornale normale di cronaca, un giornale romano di cronaca, non era mai arrivato al punto a cui oggi è arrivato col direttore Cusenza. Ha cominciato una campagna alle sette piaghe di Roma, come le piaghe d'Egitto. Quella del traffico e dei pedoni è una delle sette piaghe. Gli alberi e i giardini un'altra delle sette piaghe. I rifiuti, le buche, non dimentichiamole, che non vengono tappate. Ci si spalma sopra un po' d'asfalto e si rifanno peggio di prima. Lei ci cammina con la macchina, ma con l'autobus è molto... Il problema non è, come dice la raggia... Perché, cosa dicono la raggia dei 5 Stelle? Che questi attacchi sono un complotto dei poteri forti della città. Adesso, ma la signora che cade nella buca, o il motociclista che va a sbattere contro l'albero, o la mamma che porta il bimbo a scuola a Fonte Laurentina con i roghi tossici che gli portano la puzza in classe, non sono i poteri forti. Sono romane e romani che pagano le tasse e si sono rotti le balle. Noi mettiamo a disposizione della città Piazza San Giovanni sabato prossimo, il 19 ottobre alle ore 15, per dimostrare non solo che il governo Conte, Renzi, Di Maio non rappresenta il Paese, ma che anche la Raggi dovrebbe gentilmente farsi da parte. E poi in democrazia noi possiamo raccogliere 100.000 firme dei romani, come Lega stiamo preparando un progetto sull'ambiente, sui rifiuti, sulle case popolari, sui trasporti, sui negozi. Ci sono i vigili urbani che vanno a misurare se il tavolino in una città turistica come Roma esce di 20 centimetri da quello previsto per dargli la multa e di fianco ci sono i cumuli dei rifiuti. Non è normale lavorare così, non si può lavorare così. Roma è il biglietto da visita dell'Italia nel mondo. Se nelle televisioni americane o cinesi vanno in giro i topi, dei gabbiani che sembrano dei mostri preistorici, le metropolitane ferme e i sacchi di monnezza, noi perdiamo, al di là di credibilità e immagine, ma perdiamo anche posti di lavoro, turismo, business, quattrini. E poi per tornare a quello che ho sentito con le mie orecchie e alla scala dal presidente di Assolombarda Bonomi, i termovalorizzatori che potrebbero essere costruiti e dare lavoro a un sacco di imprese sono indispensabili per l'economia italiana. Sono una questione, come appunto si è detto per molto tempo, della TAV, che non è la Torino-Lione, è una rete ferroviaria che va dal Portogallo fino al Danubio e quindi non esiste pensare solo al piccolo tratto. I termovalorizzatori che vanno fatti, vanno fatti perché le città italiane pagano i soldi dei cittadini, dei contribuenti per portare questa spazzatura o all'estero, o a Brescia, a Parma, dove ci sono i termovalorizzatori, o all'Andrangheta per bruciarceli qui a Milano, a Monza, a Bergamo, perché questi sono gli incendi dei capannoni. La Procura di Milano ci sta lavorando, la dottoressa Dolci l'ha dimostrato, quindi secondo me è un'idea da ottusi pensare che il termovalor... Ma guarda che il problema, hai ragione direttore, il problema riguarda dei magistri San Napoli, De Luca in campagna, riguarda anche alcune città siciliane e andarci in mezzo, sono i cittadini, perché pagano di più e respirano peggio. Quindi chi dice no al futuro, alla tecnologia, costa di più ai cittadini e alla salute dei cittadini. Quindi se tu volessi organizzare un confronto in questo studio col sindaco Raggi, quando vuoi, io sono a disposizione. Sì, io lo farei volentieri, ma il sindaco Raggi, che è disponibile ad andare al Consiglio dei Ministri, non è disponibile a questo genere di confronti. Questo credo che lo sai benissimo, perché penso che sarà la decima volta che lanci questa sfida, che magari tutti, perfino Renzi, raccoglie, raccoglierebbe, ma la Raggi no. No, è incredibile. Vado subito alla chiusura, che è politica, perché noi sappiamo adesso, da quello che abbiamo sentito, il 19 è l'appuntamento a San Giovanni e poi l'Umbria è un appuntamento politico. A prescindere da questi appuntamenti per cui stai lavorando in giro, stai facendo naturalmente campagna su queste cose, eccetera, ma a prescindere da questi, la prospettiva della Lega di Matteo Salvini, perché è questo, ed è questo da due anni, ed è questo anche per il futuro, qual è la prospettiva politica? Restituire la parola agli italiani e la possibilità per gli italiani di eleggere un Parlamento e quindi un governo che rispecchi veramente le esigenze del Paese e la volontà del Paese è il prima possibile. Quindi limitare i danni economici di questa maggioranza, in un mese abbiamo sentito la tassa sulle merendine, la tassa sui conti correnti, la tassa sulla benzina, la tassa sulle bibite gassate, vediamo quando porteranno finalmente la manovra economica in Parlamento nei prossimi giorni, vedremo di limitare i danni, vogliono fermare quota 100, glielo impediremo, sulla flat tax hanno fermato tutto, daremo battaglia, sull'immigrazione hanno triplicato gli sbarchi in un mese, ma anche su questo i sindaci e i governatori della Lega saranno assolutamente chiari, poi tu ricordavi il voto in Umbria, sì, il 27 ottobre, ma poi il 26 gennaio vota l'Emilia Romagna, probabilmente insieme alla Calabria, e poi entro la primavera voteranno la Toscana, le Marche, la Puglia, la Campania, la Liguria, il Veneto, quindi mezza Italia vota, perché almeno questo diritto di voto non lo possono scippare con dei giochi di palazzo, è chiaro che se questa mezza Italia voterà in maniera chiara, sceglierà la Lega e il centrodestra, mandando a casa il PD e i 5 Stelle, penso che le conseguenze saranno chiare e democraticamente evidenti. Su tutte queste elezioni, in tutti questi appuntamenti, la Lega e il centrodestra sono lì uniti, governano insieme alcune regioni già e vogliono governarne altre. Se si andasse alle elezioni nazionali, con chi andresti e contro di chi? Contro di chi intendo? Con la squadra, come dicevi, con cui governiamo tante regioni italiane da nord a sud, dal Veneto all'Abruzzo, dalla Lombardia alla Sardegna, allargandole a liste civiche, a sindaci, a imprenditori, a cittadini che si stanno organizzando, evidentemente contro la nuova coppia PD e 5 Stelle che a Roma e nel Lazio sta dando il meglio di sé, però non abbiamo paura agli italiani, penso che avrebbero voglia di votare domani mattina. Anche perché intanto nel mondo io leggo i titolini che vanno sotto estremamente preoccupante l'attacco della Turchia, l'attacco militare ordinato via Twitter dal premier turco. Attenzione, attenzione, da una guerra locale a una guerra planetaria il salto è breve, quindi mi domando l'Italia che cosa stia dicendo e che cosa stia facendo. C'è una guerra in corso le cui conseguenze possono riguardare direttamente noi, casa nostra, perché ci sono milioni di uomini e donne scappate dalla Siria che sono in Turchia, che sono in Grecia, che sono alle porte di casa nostra. Chi ha autorizzato l'aggressione militare turca nei confronti della Siria? Cosa dice il Presidente del Consiglio? Cosa dice il Ministro degli Esteri? Stiamo sostenendo questo atto di guerra? Io no. Io no. Io credo che sia soprattutto un atto contro l'Europa e che per questo ha avuto anche un qualche via libera, perché il riassetto del mondo in quella zona, come hai ricordato, vede tutto in campo, i russi, gli iraniani, naturalmente c'è un passo indietro degli Stati Uniti per il momento, ma ecco che gli unici che pagano il conto alla fine sono gli europei che non si stanno facendo sentire, non solo l'Italia, ma pure il resto. Ma direttore, ma ti pare normale che ci sia qualcuno che fa la guerra per bloccare un termovalorizzatore in Italia e per dire no alla TAV, no alla TAP, no alla Gronda di Genova, no all'aeroporto di Firenze e scoppia una guerra non lontano da casa nostra in silenzio? Eh sì, non mi pare normale. Dove è Conte? Non mi pare normale. Dove è Di Maio? Possiamo dire no che l'attacco militare contro la Siria rischia di diventare un crimine? Tanto più un crimine contro i curdi perché i curdi non sono una piccola popolazione locale ma sono quelli che hanno sconfitto l'Isis perché quando si è trattato di combattere l'Isis sul terreno, non solo con i bombardamenti, ma sul terreno, ebbè la guerra l'hanno fatta e l'hanno vinta i curdi per conto di tutti, a nome di tutti. E ci sono molti italiani che stiamo intervistando in questi giorni su TG.com che sono stati con i curdi in quei frangenti e testimoniano del loro eroismo, perché con forze preponderanti, con armamenti preponderanti, i curdi erano un po' quelli che hanno fatto, perché salvavano il loro territorio, perché difendevano le loro donne, perché difendevano la loro vita, quindi oggi tocca per loro difendersi dai turchi e non hanno nessuno al mondo che dice il genocidio possibile, probabile, dei curdi, è una stupidaggine, è un atto orribile, è un atto orribile, questa è una cosa che va detta, a parte la strategia siriana che c'è, la strategia importante di divisione che dicevi te prima, però ci sono pure delle popolazioni kurde che rischiano la vita. Io credo che siamo d'accordo che è stata una utile, utilissima chiacchierata su Roma, siamo d'accordo che la situazione a Roma è insostenibile, io chiunque proponga una mozione contro questa giunta la firmo, se la propone Belzebù, ti aspetto in piazza San Giovanni sabato 19 ottobre, se la propone Belzebù la firmerei, perché non se ne può più, l'unica cosa come osservazione che ti faccio è che quella strana coppia contro la quale si andrà a combattere le elezioni in realtà è diventata un triangolo e quindi bisognerà parlare pure del terzo lato, perché è diventata un triangolo con Renzi e si, a Raggi e Zingaretti si è aggiunto Renzi che è spuntato dalla sera alla mattina si è portato a casa i ministeri e poi si è fondato il partito vabbè, solo in Italia succedono bisogna vedere come va a finire con il triangolo un abbraccio ci vediamo presto a presto grazie grazie di questa grazie a voi di questa intervista grazie a te grazie a voi che riproporremo naturalmente oggi qui finiamo con fatti e misfatti diamo la parola a TG.com ci sono le notizie agli approfondimenti della giornata buona giornata a TG.com 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 Grazie a tutti.